Musica Rinnovabili autonomia, il monito di Bonomi, il presidente di Confindustria alla convention dei giovani imprenditori di Capri. Attuare il piano per la transizione energetica, no a riforme che spaccano il paese e promosse le ZES, ma fare imprese al sud è più difficile che altrove. Addio a Rosetta Cutolo, stop ai funerali pubblici e morta ad 86 anni in una clinica di Ottaviano, la sorella del superbosso della nuova camorra organizzata Raffaele. Secondo gli inquirenti a custodito per anni i segreti del clan, il questore dispone celebrazioni private. Festa del PD a Benevento, De Luca protagonista, il governatore ospite alla festa dell'unità del Sannio. Aria interna e burocrazia stoccate al governo, gli argomenti trattati nell'intervista in piazza con il direttore Pierluigi Melillo, trasmessa in diretta da Otto Channel. Guerra in Medio Oriente, piazze divise a Napoli. Dopo il corteo con 500 attivisti pro-Palestina e contro Israele, si spacca anche il mondo musulmano. Oggi nuova mobilitazione dei pacifisti con l'ex sindaco De Magistris, gravi responsabilità dei governi occidentali. Estate senza fine, folla in costiera, ultime ore di caldo fuori stagione prima dell'arrivo dell'autunno. Al molo Masuccio di Salerno, traghetti strapieni e frotte di visitatori verso la costiera amalfitana, soddisfatti gli operatori turistici. Centro per l'autismo, festa, stringe i tempi. Ancora polemiche ad Avellino per la struttura. Dopo il sit-in al comune di associazioni e opposizioni, il sindaco chiarisce tempi strettissimi per l'apertura. E sull'affidamento ai privati smentisce, sono solo idiozie. Erano i nostri titoli, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di Otto Channel. L'Italia riparte se cresce il sud. È il monito che arriva dall'Assemblea dei Giovani di Confindustria in programma Capri. Confronto con ministri del governo e istituzioni locali per tracciare le priorità dello sviluppo. A cominciare dalle ZES che in Campania hanno portato investimenti per un miliardo e mezzo. Necessario dunque non vanificare il circolo virtuoso e l'avvertimento della guida di Confindustria che rilancia l'impegno sullo sviluppo del mezzogiorno. In questi due giorni c'è stato l'orgoglio del mezzogiorno di dire che non vogliono sussidi, non vogliono le lemosine. I giovani, chi è stato sul podio, ha detto io voglio fare l'imprenditore competitivo. Io voglio avere le stesse condizioni che hanno gli altri. E poi me la gioco alla pari. Perché guardate che fare imprese nel mezzogiorno è molto più complicata che farla a Milano. Io ammiro tantissimo. Alto là anche a riforme che spaccano il paese come l'autonomia differenziata se non tiene conto dei livelli essenziali delle prestazioni. Monito anche sull'energia. Per Bonomi è fondamentale rimettere al centro dell'agenda di governo il tema dell'energia e della transizione verso le rinnovabili. Passata la timeline del conflitto russo-ucraino, sembra che l'energia non sia più un problema. Ma noi non abbiamo risolto, non abbiamo fatto quegli interventi che avevamo detto che stavamo facendo. Ieri da questo palco è stato detto quanto dovevamo realizzare di rinnovabili? Quante ne abbiamo realizzate? I conti non tornano. Quindi noi dobbiamo ricordarci che quando si mette in essere un piano d'emergenza va poi portato fino in fondo. Il questore di Napoli ha vietato i funerali pubblici per Rosetta Cutolo, la sorella del superboss e fondatore della nuova camorra organizzata Raffaele. La donna, 86 anni, ispirata in una clinica di Ottaviano dove era ricoverata da alcuni giorni. Sorella maggiore di Raffaele non ha mai lasciato la sua città natale. Secondo gli inquirenti è stata la custode dei segreti del clan. I funerali sono in programma domenica alle 10.30 nella chiesa di San Michele ad Ottaviano. Dopo lo stop del questore per motivi di ordine pubblico, il rito funebre avverrà in modo ristretto e riservato. E' il governatore Vincenzo De Luca, ospite alla Festa dell'Unità a Benevento. Aria interna e burocrazia è stoccata al governo gli argomenti trattati nell'intervista in piazza con il direttore Pierluigi Melillo, trasmessa in diretta da Otto Channel. Autonomia differenziata, politica nazionale e provinciale al centro dell'intervento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che questa sera a Benevento ha partecipato alla Festa dell'Unità del Partito Democratico Sannitta, che per la prima volta dopo anni è tornato in piazza. Ed è stata a Piazza Roma, nel cuore del capoluogo Sannitta, ad ospitare il governatore della Regione, intervistato dal direttore di Otto Channel TV Pierluigi Melillo. Commosso ed arrabbiato il Presidente della Regione in apertura del suo intervento, nel ricordare la tragica guerra in Medio Oriente. Ha compiuto un atto di disumanità, ha ucciso persone innocenti, ha massacrato bambini, Israele ha il diritto e il dovere di combattere contro Hamas e di distruggere un'organizzazione terroristica. Un governo che non guarda al sud, ma manca però l'alternativa, il monito di De Luca. PNRR centralizzato a Palazzo Chigi, Fondi sviluppo e coesione centralizzato a Palazzo Chigi, ZES unica del sud centralizzato a Roma. Questo è il governo che avrebbe dovuto essere un governo in grado di sburocratizzare l'Italia, di accelerare la spesa, di aprire i cantieri, di creare economia, di creare lavoro. Non ci siamo. Quello che a me fa male è dover ascoltare la domanda che mi fanno anche persone amiche. Tu hai ragione, ma l'alternativa qual è? Era originaria di Torre del Greco, concetta marruoccola, 53enne, uccisa a coltellate dal marito dal quale si stava separando. L'ennesimo femminicidio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Cerreto Desi, nell'Anconetano. Il presunto killer Franco Panariello avrebbe colpito la donna mentre in casa era presente la figlia minorenne della coppia che avrebbe poi chiamato i carabinieri. A Napoli ieri in 500 sono scesi in piazza per chiedere la fine del conflitto israelo-palestinese, ma il mondo arabo si è diviso. L'ex sindaco De Magistris attacca gravi responsabilità da parte dei governi occidentali. Oltre 500 persone ieri sera sono scese in piazza a Napoli per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente, ma la manifestazione organizzata da comunità palestinese, cittadini e sigle della sinistra, ha finito per spaccare il mondo arabo. Non è sceso in piazza infatti l'imam Massimo Cozzolino, perché ha spiegato per noi a massa e come l'ISIS, ma la marcia non è stata l'unico appuntamento. Stamane in piazza Bellini si è tenuta un'iniziativa per la pace con l'ex sindaco Luigi De Magistris e padre Alex Zanotelli. Se non si pone fine all'apartheid, all'occupazione delle terre palestinesi, non si dà dignità a un popolo, non ci sarà mai pace e sicurezza né per i palestinesi né per gli israeliani. Quindi c'è una responsabilità molto forte dei governi forti del mondo, soprattutto i governi occidentali, che non hanno voluto affrontare in maniera efficace questo tema. Quindi adesso la situazione è totalmente fuori controllo. L'obiettivo è creare un moto nell'opinione pubblica che magari possa confluire anche in una manifestazione nazionale per la fine della guerra. Il commento è collegato a quanto sta accadendo in questi minuti, in queste ore nella striscia di Gaza, dove un popolo di 2 milioni e oltre di persone, prevalentemente bambini, è sotto attacco da un bombardamento terribile. Quindi queste iniziative si propongono in primo luogo di fermare la guerra. Incidente sul lavoro nel pomeriggio presso il cantiere Eav di Via Nocera a Castellammare di Stabbia. Un giovane operaio è rimasto ferito per l'esplosione avvenuta nel traforo per il raddoppio della linea circunvesuviana. Il dipendente è stato portato in ospedale sul posto. Le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine, da chiarire la dinamica dell'accaduto. La CISL in piazza per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge che disciplina la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese pubbliche e private. Significa completare un percorso di democrazia, detto il segretario Converiati. La CISL ha celebrato a Napoli la festa della partecipazione, due le piazze del capologo campano in cui sono state raccolte firme per sostenere la proposta di legge popolare avanzata dalla CISL nazionale che disciplina la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese pubbliche e private. Una manifestazione preceduta ieri da assemblee nei luoghi di lavoro per spiegare i motivi di questa iniziativa che ha visto l'adesione anche del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha firmato alla presenza della segretaria della CISL di Napoli, Melicia Converiati. L'adesione del sindaco, ha spiegato Converiati, va nella strada tracciata dalla CISL della promozione di un grande patto sociale dove tutti gli attori siano fortemente partecipi e condividano responsabilmente la necessità di innovare le politiche attive del lavoro e garantire la partecipazione per un mercato del lavoro che dia stabilità al nostro territorio. Oggi siamo qui per questa proposta di legge d'iniziativa popolare fortemente voluta dal nostro segretario Luigi Sbarra e da tutta la CISL nazionale. una proposta per tutti i cittadini affinché abbiano una partecipazione attiva al lavoro, quindi una partecipazione non conflittuale. Chiediamo una partecipazione di impresa condivisa da tutti i lavoratori in piena attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Questo significa per noi innovare fortemente le relazioni industriali attraverso un ampio spazio dato alla contrattazione collettiva. Ci crediamo fortemente. Questo significa veramente completare la democrazia. E nonostante l'estate sia terminata da settimane a Salerno, complice il bel tempo, ci sono ancora tanti turisti agli imbarchi dei traghetti per la costiera amalfitana. Un'estate senza fine, con temperature, miti e sole. A Salerno ancora folla gli imbarchi per la costiera amalfitana, approfittando delle ultime ore, prima che l'autunno si faccia sentire davvero con pioggia e calo della colonnina di Mercurio. La settimana prossima sono previste le piogge, quindi approfittiamo di andare adesso. Da più tranquilli, c'è meno caldo, meno caos, meno confusione. Abbiamo approfittato l'ultimo giorno di estate. Grazie a Dio. Una giornata così bella, siamo ancora in estate, noi siamo di Cervia. E dove andate? Noi andiamo a Positano. Godiamoci almeno oggi questa giornata magnifica, poi speriamo che continui ancora un po'. Il tempo è ancora ottimo per girare la costiera amalfitana, sì. Voi da dove venite? Dalla provincia di Milano. Il tempo è bello, veramente bello, ci stiamo divertendo. La costiera? Bella, bella, molto bella. Mi piace molto, mi incanta, felice, noi felice. E' hermoso tutto. Direi molto molto bella, stiamo divertendo, il tempo è dalla nostra parte, quindi è il top. Le temperature sono ancora alte, fino a quando si andrà avanti con i traghetti? Allora, non andiamo avanti fino a 5 novembre. Poi si sta valutando un pochettino se continuare o no, fino a 5 novembre è ufficiale. Un'estate comunque è andata benissimo. Ottima, sì, ottima. Ci sono parecchi turisti, parecchi, parecchi turisti. La cosa più difficile per un politico è fissare le scadenze. Peggio farlo in pubblico, se poi si tratta di trasporti con tutti gli inconvenienti del settore, è roba da supplizio. Il sindaco di Napoli, Chetano Manfredi, si immola infilando un obiettivo dietro l'altro. A giugno 2024 apriremo la linea 6 della metropolitana. Ancora nei prossimi mesi arriveremo da 10 a 12 nuovi treni della linea 1. Adesso siamo a 6, abbattendo i tempi d'attesa. E nel 2024 apriremo la stazione del centro direzionale, mentre a fine 2025 arriveremo con la metro all'aeroporto con la chiusura dell'anello. Manfredi prepara la sfida, senza rete di trasporti Napoli non può fare il salto di qualità. Centro autismo ad Avellino, ancora polemiche. Dopo il settino davanti al comune di associazioni e opposizioni, il sindaco Festa chiarisce tempi strettissimi per l'apertura e sull'affidamento ai privati smentisce mai detto. Sono idiozie inventate da quattro persone. All'indomani del flash mob di associazioni e opposizione consigliare per la riapertura del centro autismo di Valle, il sindaco Gianluca Festa assicura che per la struttura ci saranno tempi brevi. Siamo in direttore d'arrivo, almeno rispetto a sancire questa intesa. E confermo di aver operato nell'esclusivo interesse della comunità, ma soprattutto confermo che quando comunicheremo la scelta tutti saranno contenti e smentiremo come al solito questi denigratori seriali che faranno un'altra brutta figura. Sulla gestione ai privati il sindaco chiarisce. Ribadisco, aspettate l'annuncio e non ho mai affermato che si possa trattare di privati. Avremo 7 milioni di euro per promuovere percorsi di formazione e di inserimento lavorativo per le fasce svantaggiate, credo sia un motivo di orgoglio per la città e quindi sono stato impegnato a Venezia, ma con piacere parteciperò al Consiglio anche perché ho un po' di cose da dire, ma soprattutto voglio ascoltare queste idiozie che diranno i consigli di opposizione. Salerno punta al boom per l'accensione per le luci d'artista. L'accensione è il 24 novembre per un evento che durerà meno del solito, ma con l'obiettivo di catalizzare mediaia di visitatori fiduciosi, gli operatori turistici. Salerno si prepara ad accogliere la nuova edizione di luci d'artista, sarà la diciottesima, e i tanti visitatori che arriveranno in città. Taglio del nastro previsto per il prossimo 24 novembre. L'evento terminerà il 21 gennaio. Proseguono gli allestimenti. Nelle varie zone della città, una kermesse completamente rinnovata, le installazioni luminose sono affidate allo studio torinese On Design. La villa comunale sarà trasformata in uno zoo illuminato, ricco di animali di ogni tipo, mentre il corso Vittorio Emanuele sarà un cielo stellato, con pianeti di tutte le dimensioni. A piazza Flavio Gioia arriveranno invece meduse e vegetazione. Si ci aspetta grandi numeri, soddisfatti gli operatori turistici. C'è un grandissimo interesse tra gli operatori nazionali per luci d'artista, ormai è un evento iconico che è atteso in tutta Italia. Allo stand del Comune di Salerno a TTG abbiamo avuto tantissime richieste di agenzie di viaggi che sono rimaste particolarmente soddisfatte del fatto che le luci si accendano il 24 novembre e rimangano attive fino al 21 di gennaio. Il presidente Ilardi ha rivolto anche un appello ai salernitani, chiedendo la loro collaborazione per il successo della kermesse. Vorrei dirlo a tutti i nostri concittadini. È un evento tradizionale, è un evento che caratterizza la città, che apporta benefici non solo nel periodo in cui si tiene, ma anche in termini pubblicitari, tutto l'anno. Quindi accogliamolo con grande favore e con grande piacere. A Benevento, dopo decenni di attesa, sono stati finalmente inseriti i numeri civici nelle contrade nord. Inaugurate anche tre strade. Il sindaco Mastella dice che la toponomastica è fondamentale in caso di necessità. Prosegue a Benevento il piano per la valorizzazione delle contrade e la nuova toponomastica. Sono infatti migliaia i numeri civici e decine le nuove strade inserite nella mappa della città. A Benevento, infatti, nelle contrade fino a qualche tempo fa non c'erano le indicazioni precise per identificare le abitazioni. Con vari step, l'amministrazione guidata da Clemente Mastella ha ora inserito circa 1.416 numeri civici, che si aggiungono ai 5.000 già assegnati per un'area di 30 km quadrati e 41 aree cosiddette di circolazione. Ho trovato una situazione veramente drammatica. Il fatto di non avere il numero civico significava una forma di distanza alla città, di distanza da quello che è un diritto costituzionale garantito. Non potevano chiamare l'ambulanza, potevano chiamare altri servizi perché gli dicevano dove stai. Sembrava, come sempre detto, come quando Polifemo veniva soffocato nell'occhio, l'unico occhio da parte di Ulisse, chi sei? Chi mi sta? Nessuno. Gli chiamare dicevano dove venga? Nessuno, non sapevano dove fare. Oggi invece questo è un momento particolare, sembra apparentemente una cosa di poco conto, invece è una cosa importante. E devo dire che non è che abbiamo messo i numeri con il 14 davanti là, cioè se stai ai parenti in Australia o in Germania o altrove puoi leggere tranquillamente di là perché va su Google. Il Tribunale di Nocera Inferiore celebra il traguardo dei 30 anni di attività. Il ricordo di Gargani ha segnato il protagonismo del territorio, ma non mancano i disagi. La Camera Penale diserta la cerimonia per protesta. Da 30 anni il Tribunale di Nocera Inferiore è un baluardo di legalità per i cittadini dell'Agro, un traguardo festeggiato con una cerimonia speciale. Tenuta questa mattina nel Palazzo di Giustizia Nocerino, tra i presenti anche Giuseppe Gargani, che all'epoca da deputato portò avanti una battaglia serrata per l'istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore. Si diceva, ma è poco distante da Salerno e nessuno teneva conto che invece c'era una titolarità, c'era un territorio, c'era un protagonismo da parte del territorio del quale bisognava tener conto. Un presidio importante ma che sin dalla nascita ha dovuto fare i conti con diverse criticità. Nel lontano 1993 furono trasferiti da Salerno tutti i fascicoli delle cause civili e penali che già pendevano a Salerno, quindi partì dall'inizio con una pala al piede, con una zavorra che ne ha condizionato negli anni la vita e l'efficienza. Problemi strutturali e funzionali ancora esistenti che hanno portato gli avvocati della Camera Penale a disertare la cerimonia per i 30 anni. Questa sede giudiziaria che è stata più volte gravata di nuovi compiti e quindi chiaramente con molta difficoltà riesce a gestire l'esistente, le sopravvenienze, l'arretrato. La Procura ha fatto la sua parte. Purtroppo uno dei limiti grossi di questa sede giudiziaria è anche quello degli spazi. Screening gratuiti e una maratona rosa per sostenere la ricerca. La Casa di Cura Gepos di Telese Terme aderisce al mese della prevenzione per il cancro al seno. Insieme nella lotta contro il cancro al seno la Casa di Cura Gepos di Telese Terme scende in campo ancora una volta per la prevenzione promuovendo in questi giorni screening gratuiti. La clinica Gepos che fa parte del gruppo De Vizia Sanità ha organizzato questa settimana, questi giorni di prevenzione offrendo alle donne in maniera del tutto gratuita degli esami clinico-diagnostici nell'ottobre rosa perché appunto è il mese di prevenzione del tumore alla mammella. Torna anche la maratona rosa tutto pronto per la Telese Pink Race in programma domani a sostegno della ricerca. Abbiamo anche quest'anno ovviamente organizzato quella che è la Pink Race questa maratona che tingerà di rosa questo fiume rosa che noi ci auguriamo di vedere come al solito non solo di donne ma anche di uomini e bambini che devono tingere di rosa quella che è la nostra realtà territoriale e la nostra ovviamente cittadina telesina per fare in modo che si lanci questo messaggio della prevenzione. La prevenzione salva è l'appello lanciato dagli specialisti della struttura telesina che analizzando i dati evidenziano un aumento dell'incidenza dei tumori alla mammella nelle giovani donne. Quest'anno abbiamo voluto illuminare la clinica GEPOS di Rosa quasi a rappresentare un faro che indica alle pazienti il giusto percorso da intraprendere. Come responsabile della senologia ho un modo di constatare quanto la prevenzione possa fare la differenza nella cura del tumore alla mammella. Con le nuove tecniche di imaging è possibile trovare delle neoformazioni di piccole dimensioni e quindi consentire alle pazienti di iniziare rapidamente un percorso di cura. Avvicinare i giovani alla cultura e quindi alla lettura è la finalità del progetto dell'Associazione Nuova Dimensione presentato oggi a Loreto di Mercogliano. C'era una volta in un paese lontano la voglia e l'idea di diffondere la cultura. L'Associazione Nuova Dimensione ha lanciato il progetto per il contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica con l'avvicinamento al libro e alla lettura. La sintesi di quello che abbiamo trascorso con Angelina Aldorasi nelle istituzioni educative qual era la funzione dell'istitutore, del rettore? Era quella di far crescere questi ragazzi e di dargli una visione della società e del mondo che potesse soddisfare non le proprie esigenze corporali ma le proprie esigenze morali. Un'occasione di crescita per i ragazzi per stimolare la loro curiosità e il sapere. Purtroppo oggi si legge molto poco e io durante la mia esperienza posso dire che l'allunno che non legge bene non è che va male soltanto nelle materie letterarie ma va male in tutte le discipline. Saper leggere vuol dire stare bene con se stesso amare i libri significa stare bene con se stesso. Il progetto è stato presentato all'Abbazia dell'Oreto di Mercogliano una nuova iniziativa dell'Associazione Nuova Dimensione. Un ennesimo progetto che portiamo avanti nonostante le tante altre attività che facciamo già con l'Associazione Attraversi Ragazzi del Servizio Civile è lavorare con le scuole uno di quegli obiettivi principali quello di riportare al vecchio splendore la lettura di un libro e soprattutto quello di riportare alle vecchie memorie quello è il principale obiettivo che noi stiamo cercando di realizzare attraverso il centenario dalla nascita di Italo Calvino e soprattutto attraverso l'azione nelle scuole e nelle biblioteche comunali che sono parte dei nostri progetti. E con questo è davvero tutto il Tg termina qui grazie per averci seguito vi lascio al meteo vi auguro una buona serata con i programmi di 8 Channel Grazie a tutti Grazie a tutti